Noi volevamo che forsi tu a onorare questo frutto della terra. Non so se è plastica o umido o splatter. E' un'impressione che taglino come dei rasoi sti coltelli. E' un piacere vedere di fare questa cosa. Vabbè adesso che l'abbiamo visto che possiamo andare e me lo faccio. Carote e carote sono carote. Ci viene dentro? Che bella bistecca. Non ci sta. Ma dato che siamo in cinquanta tagliamo in cinquanta. A ciputta. A ciputta l'aveva fatta già lì. Vabbè. 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 Vabbè.